Si svolgeranno domattina alle 10 i funerali di Cosimo Damiano Bologna, il 50enne morto dopo circa due settimane di agonia a causa delle ferite alla testa riportate dopo l'aggressione subita in piazza Terme a Canosa per aver difeso una sua amica dalle insistenti avance di un uomo che si era già reso protagonista di altri atteggiamenti simili in passato. Una morte assurda e per cui è già finito in carcere il 36enne canosino Domenico Bellafede che dovrà ora rispondere di omicidio volontario a lanciare un messaggio dopo quanto accaduto è direttamente il sindaco della città Roberto Morra. Un evento tragico, occorre che la città si fermi a riflettere su questo gesto, su questo avvenimento, perdere la vita per difendere la donna da molestie avute da uno stalker a questo punto, beh occorre veramente fare tesoro della vita di Bologna, occorre veramente prendere e apprezzare il suo gesto affinché possa diventare un gesto normale, un gesto di difesa, tutela della donna veramente sentito. Una comunità quella canosina scossa da quanto accaduto, tanti gli attestati di vicinanza ai familiari di Bologna e all'intera cittadinanza, una comunità che come spiega il primo cittadino sta reagendo ad una intollerabile forma di violenza. Ho disposto intanto a seguito delle istanze, di parecchi cittadini e associazioni il lutto cittadino per domani, quindi domani nella giornata in cui ci saranno le esecue del povero Bologna ho disposto il lutto cittadino. Le associazioni si stanno muovendo anche per un momento di riflessione che ho richiesto da parte di tutti, quindi in questa direzione le associazioni stanno organizzando una fiaccolata ed è molto importante per la città fermarsi un attimo e riflettere sull'accaduto.